sei in onda non hai più fiato per parlare? io per raggiungervi ho fatto l'80% con il centrale siamo sul tratto centrale della cosiddetta cinghialaia io stasera ho Fiorentina che mi attende a casa e siamo all'esplorazione di questo nuovo e inedito percorso per gli sbubikers questa è pianura alberetto è come l'ultimo tratto incessantemente per un peso per due chilometri l'hai misurata mai? se si è alla fine tira intanto ho capito dove arriva eccola un bel tratto di salita hai presente punch out quando ricarichi le energie per sferrare il pugno uguale sono pronto ah però è alberetto 2 solo che è sassosa maledetta eh cervo tocca abbiamo la prova video no 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 Sì Sì